Io non mi spavento di fronte alla dialettica, la dialettica è figlia della democrazia, è sangue della democrazia, si siederanno sicuramente, si siederanno così come ci stiamo sedendo noi con Juncker come gruppo socialista e troveremo le risposte, avremo le risposte, almeno me lo auguro, perché Juncker sa bene che da queste risposte dipende la nostra fiducia e il nostro consenso.